Attenzione, il seguente doppiaggio è stato realizzato esclusivamente per questo trailer, pertanto non verrà inserito nel prodotto finale. The Devil Swamp può contenere violenza, sangue, immagini disturbanti e riferimenti religiosi. Vi sconsigliamo di giocarci se siete sensibili a tali contenuti. Ospedale di Cracovia, 25 dicembre 1942. Il paziente soffre di disturbo di panico, mostra differenti cicatrici e lesioni sul suo corpo dovute ad autofagia e autolesionismo. Chi sarebbe questa Luna? Io sono Luna, tu come ti chiami? Nessuno qui ha un nome. Tu come fai ad avercelo? Il paziente continua a parlare da solo, ma si interrompe bruscamente mentre viene osservato o quando manifesta esperienze extracorporee. Prima che valghi quella porta devo avvisarti che non sei sola. C'è un male antico che risiede fra queste stanze. È stata prescritta camicia di forza e museruola, da rimuovere solo durante i pasti e le sedute psicoanalitiche. Signorina Yang, inizia la nostra ultima seduta prima delle dimissioni. La prego di sederci sull'ettino. Dottore, dottore, dove sarà finito la sfida di un vettore? Sì, certo. Sono giunta qui, proprio dalla mia stanza. Ma non sa come tornarci. Aiuto! Devi rendere un dono al sovrano giusto per svegliarti. Il signore del labirinto potrebbe aiutarci. Trova la colore e la candela. Rendi omaggio con lo scendolo del Teoclasta. Basta! Solo così potrai sfuggire da quest'incubo.